Benvenuti e bentornati sul mio canale Untecola e Mary. Ciao a tutti, io sono appunto Mary e oggi sono qui a mostrarvi il video sui prodotti finiti baby. Allora, iniziamo subito perché diciamo che da tanto che manco sul tubo e ho finito un bel po' di prodotti. E so che tante mammine all'ascolto hanno bisogno di qualche piccolo consiglio e allora diciamo che ho voluto fare questa raccolta di prodotti proprio per voi. Allora, ho finito innanzitutto questo detergente per capi delicati e bebè alla profumazione mandorla della Chanteclerc Verde. Un ottimo detersivo, profumo molto molto delicato, sa di mandorla, non è assolutamente stucchevole, è molto delicato. E anche igienizzante, quindi non aggiungevo napisan o comunque del detergente igienizzante proprio perché già questo ce l'ha incorporato. Ottimo, lo prendo in offerta, buono. Lava abbastanza bene, certo per le macchie un pochino più ostinate comunque aggiungo sempre lo smacchiatore perché solo i detersivi delicati così fanno fatica a volte a togliere quelle macchie un pochino più difficili. Comunque per il bucato non troppo sporco va più che bene, lava bene e lascia i capi profumati anche senza ammorbidenti. Ho finito diversi pacchi di pannolini, come è ovvio che sia. Ne ho diversi di questa marca, pallino, 50 pannolini, questi li compro da MD. Mi ci trovo bene, assorbono bene quello che devono assorbire, la pipì, la trattengono bene, non ci sono mai fuoriuscite, bagnate assolutamente. Buoni, non creano irritazioni alla bambina, costano 15 centesimi al pannolino, niente praticamente e sono dei validi pannolini. Se vi interessano delle recensioni specifiche, proprio dettagliate sui pannolini che io ho usato, diciamo, fino ad oggi, vi rimando al mio video proprio sui pannolini in cui faccio proprio anche vedere il test di assorbenza. Quindi molto scientifico come video quello lì, quindi ve lo consiglio. E comunque, ho finito queste salviettine, le P&P, scusatemi, le ho messe al contrario. Allora, sono salviettine, queste qua le compro da iper, come si chiama, iperbimbo? No, vabbè, con i negozi là, 0% fenossietanolo e parabeni per pelli sensibili. Quindi, allora, il profumo è dolce, infatti c'è scritto anche profumo dolce, buono, ma alla fine mi ha un po' stancato l'odore. Leggermente stucchevoli alla lunga, quindi diciamo che per un po' non le comprerò più. Ho voluto provare anche queste qua, questi pannolini qua, piccolino baby, questi... Ho venuto al MD prima, no? Scusatemi ragazze, queste qua di pallino, questi qua di pallino li trovo all'Inns, perdono. Mentre questi piccolino baby li ho trovati all'MD, giusto? Mi confondo sempre tra MD e Eurospi. MD, ve lo confermo. Allora, questi... Mi sono piaciuti un pochino meno rispetto a quelli dell'Inns. Sì, assorbono, ma insomma, pannolini leggermente più scadenti rispetto a quelli dell'Inns. Nì, diciamo, non li ricomprerò più. Ho finito un pacchettino di questi qua dell'Inns. Sapete che non me li ricordo neanche più? Non mi hanno entusiasmato neanche questi. Pannolini normalissimi. Uh, questo pacchetto ha una vita ormai. Infatti taglia tre, è una vita che non li uso più. Ah, queste erano le mutandine. Allora, Agis Mutandina. Ottima l'assorbenza, dei buoni pannolini. Devo dire che questi ve li promuovo. Adesso che la bimba, in effetti, fa un po' di storia a farsi cambiare il pannolino, con quelli tradizionali, diciamo, vorrei ritornare un pochino alle mutandine. Voi cosa mi dite, ragazze? Avete dei pannolini mutandine che mi consigliate? Danno spendere, possibilmente, un frac. Insomma, i pannolini se ne consumano durante la giornata. Quindi vorrei evitare di svenarmi per i pannolini. Quindi se avete delle alternative, diciamo, abbastanza economiche, fateli sapere. Sempre del marchio Pallino, quindi sempre dell'Inns. Ho finito tantissimi pacchetti di queste salviettine, appunto, Pallino all'Inns. Buonissime. Queste mi piacciono tanto, tanto, tanto. Sono quelle che compro più volentieri, costano poco, sono delicatissime, mai dato problemi di irritazione. Profumo molto buono, delicato. 80 pezzi promossissime. Ho finito sempre un altro detergente, sempre per bucato bebè. In questo caso la profumazione era dolce talco, che preferisco rispetto alla profumazione alla mandorla. Stessa efficacia, stesso tutto, cambia solo, appunto, la profumazione. Poi, della Baby Love, che sarebbe il marchio dei pannolini del DM. Quindi, se avete una catena di DM vicino a casa, trovate anche questa marca. Buoni, devo dire, buoni pannolini. Mi ci sono trovata abbastanza bene. Economici. fatti con il 40% di materiale riciclabile, sì, però comunque vanno sempre nell'indifferenziata, non sono pannolini ecologici. E buoni, dai. Questi mi ci sono trovata abbastanza bene. Poi, ho finito questo pacco triplo di Salviettine Algis, versione Pure, che poi era un pacco triplo, quindi, insomma, queste. Buone, delicate, senza profumazione, veramente. Buone, mi, perché alla fine aveva una trama, un materiale molto, molto sottile, che quasi sembrava carta igienica imbevuta. Quindi, alla fine dei conti, vi dirò che non le ricomprerò più, proprio perché sono fatti di un materiale un po', un po' resistente. Quindi, già solo che la tiravate fuori, si strappava. Quindi, in effetti, adesso che ricordo bene, diciamo che ve le boccio. Capito. Poi, un pacchetto di Algis Ultra Comfort. Sono quelli fatti così, con le scanalature. Buonini. Buonini, mi ci sono trovata abbastanza bene. Sì, ormai devo dire che, insomma, è difficile trovare in commercio pannolini non efficaci. Quindi, devo dire che, comunque, insomma, non ho riscontrato questi problemi con nessun marchio. Almeno, adesso che la bimba ormai è grandicella, fa più la pupu liquida, quindi non ci sono più fuori uscite. Devo dire che, ormai, un pannolino vale l'altro. E quindi, ormai, diciamo che non ho più grosse pretese, ecco. Un altro pacchettino di Algis Mutandina. C'è alle altre cose. Quindi, ho finito... Ve ne menziono una, giusto per, infinite diverse, pastine della Plasmon. In questo caso è la tipologia Forellini. Questa pastina l'ho finita diverso, diverso tempo fa. Non mi ha mai dato problemi nella deglutizione, fin dai primi mesi di svezzamento. E infatti questo tipo di pastina è consigliata proprio dai quattro mesi in poi. buona, nel senso che, insomma, l'ha sempre mangiata più che volentieri, così come la tempestina, le stelline, poi anche quella pastina un pochettino più allungata. Ma l'ha sempre mangiata volentieri, non si è mai strozzata, ecco. Ve la consiglio. No, un pacco di Pampers Progressi. Questi sono veramente finiti tanto e tantissimo tempo fa. Che dire, i progressi sono i progressi, sono i migliori. I più cari, ma i migliori. Allora, ho dimenticato di menzionarvi un altro prodotto per bambini. Allora, il detergente bagnetto. Mustela. Questo qua è l'huile de lavant. Quindi è il detergente in olio, che fa però schiuma, nel senso che è un detergente a tutti gli effetti da usare nell'acqua. Buonissimo. Buono, buono, buono. Questo me lo aveva consigliato la dottore, la pediatra, quando la bambina era più piccolina e soffriva di disidratazione della pelle. Aveva la pelle molto secca. E così mi ha consigliato appunto un detergente a base oleosa che andasse a idratare comunque anche la pelle. Infatti è indicato proprio per la pelle molto secca. Buonissimo il profumo. Come sempre i prodotti Mustela hanno un buon buon profumo. Non riesco ad aprirlo. Comunque rimaneva anche proprio sulla pelle. Devo dire che la pelle rimaneva bella profumata, morbida e ottimo. è fatto con ingredienti biodegradabili, nutre in profondità e protegge dagli effetti disseccanti dell'acqua calcarea. Si può utilizzare tranquillamente fin dalla nascita, con il 98% di ingredienti di origine naturale. Buonissimo, ottimo, buonissimo veramente. Basta davvero adesso è tutto e grazie ancora per avermi seguita. Lasciatemi dei commenti se i prodotti che ho finito vi sono piaciuti. Ditemi voi appunto se avete dei prodotti per bambini che mi consigliate. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!